la valutazione finale assegnata a questo articolo di delonghi e di 8 voti su un totale di 10 risulta essere il più esclusivo di questa selezione questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità è un articolo capace di accontentare un po tutte le tipologie di utenti se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video delonghi ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.4 su un totale di 10 punti risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo le caratteristiche principali sono controllo remoto calore ottimo rapporto qualità prezzo purezza stile livello del rumore in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto il voto finale aggiudicato da questo articolo di delonghi e di 8.4 voti su 10 questo è il migliore di questa selezione le sue principali funzionalità sono stile comodo controllo remoto calore livello del rumore se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video ciao 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 ciao